Ciao a tutti, benvenuti sul canale di Fairy ASMR. Io sono Federica, quello vicino a me è Jesse, il mio migliore amico, e quello che state guardando è un video ASMR rilassante, che mi è stato suggerito proprio da qualcuno di voi. È un video che dovreste ascoltare indossando le cuffie oppure gli auricolari. Ci prepariamo oggi ad accogliere l'autunno, anche se ufficialmente non è ancora iniziato, ma che inizia a farsi sentire con le prime giornate fredde e le prime piogge. Ecco, questo video è pensato appositamente per voi, che siete pigri, un po' come me, che non riuscite ad accettare facilmente che l'estate stia finendo e che le vacanze siano terminate. Voglio mostrarvi una serata tipo, in cui mi dedico ad attività assolutamente ricreative, video ASMR sulla tv, o magari una serie tv su Netflix. Un po' di zapping, insomma. Il mio migliore, che è comunque sempre particolarmente attivo quando che va la sera, è qualcosa da stuzzicare. In queste immagini sto mettendo a Jessie un po' di snack, ma ne ho preparati anche per me. Spero che la visione di queste immagini vi aiuti a immedesimarvi in un stato di tranquillità e serenità. Credo che sia il modo migliore per prepararci alla stagione fredda. Voglio sapere da voi, scrivetemelo nei commenti, mi raccomando, che cosa avete fatto durante l'estate, dove siete stati in vacanza. E per voi il lavoro o la scuola sono già iniziati? Ecco. Deticherò un altro video a rientro. Ecco. Ecco, ecco. Ecco. qui sto mangiando uno snack Jesse è molto curioso anche della mia merenda più che altro magari è un aperitio oppure uno spuntino di pezzanotte è molto piccita Jesse sto mangiando un mix di semi e mandorle all'interno del vasetto c'è una quantità di semi di zucca, c'è anche della frutta essiccata che dà un altro gusto acido che mi piace molto questa era una mandorlina spero che vi piaccia il suono della pioggia che ho inserito in sottofondo ho creato questo suono scegliendo quelli che più mi piacevano e che mi facevano provare ASMR a proposito scrivetemi anche se il suono della pioggia vi ha mai procurato quel brevetino caratteristico dell'ASMR questa tazza che ho preso su internet contiene il tè in caldo è un tè in foglie che si chiama Sakura perché contiene all'interno anche i fiori di ciliegio e io l'adoro, l'adoro davvero ha un profumo spettacolare, pazzesco vedete adesso faccio usare il fuso a gesti in questo video non voglio veicolarvi frasi motivazionali che vi spingano a rientrare a casa con energia e grinta questo lo farò in un altro video voglio invece prospettarvi una situazione molto 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 rilassante la mia idea è che guardiate anche voi questo video seduti comodamente sul vostro divano, sul vostro letto concedendovi una pausa dalle attività di lavoro magari o di studio a proposito la mia maglietta è come al solito di pampling e trovate già in descrizione il link per acquistarne una uguale oppure un'altra dal loro store inserendo il codice affiliato il 20 avete come al solito uno sconto del 15% sopra c'è scritto if you love me let me sleep io lo utilizzo come maglietta per casa o anche per dormire però è carino anche quando si esce dipende molto dal vostro stile non so se voi preferiate gli snack naturali oppure cose tipo patatine fritte no popcorno maistostati beh in realtà anche popcorno sarebbero naturali forse anche il maistostato comunque cosa vi piace stuzzicare quando siete davanti alla tv o al computer vi confesso che registrare questo video è stato molto rilassante per me mi sono proprio concessa qualche minuto giocoso di pausa non so probabilmente non servirà a farvi addormentare a meno che non vi concentriate solo sulla voce sul suono della pioggia senza guardare le immagini ma certamente se vorrete a tenere gli occhi aperti se vorrete a tenere gli occhi aperti vedrete delle immagini positive che stimoleranno la vostra produzione di serotonina e quindi aumenteranno la vostra dose quotidiana di felicità non dimenticate di farmi sapere se questa idea vi piace l'assunto vi piace come segno del vostro passaggio ah e se non siete ancora iscritti naturalmente iscrivetevi per non perdere altri video rilassanti e attivate anche la campanella già si sta cercando il suo biscotto ma in realtà è rimasta solo la carta come sono buoni mai sto stati? ne mangerei un quintale spesso c'è sì le scambia per croccattini ma ovviamente poi non le mangio rilassati rilassati inizia una nuova stagione e ci sono tante tante cose meravigliose che puoi ancora fare pensa al calduccio di una coperta che ti riscalda che ti riscalda le serate con la temperatura più bassa pensa al teccato profumato alle tisane della buonanotte pensa alle giornate che si accorgiano al sonno che arriva prima con il buonanotte con il buio alle nuove stagioni delle serie tv e ai video ASMR che troverai sempre su questo canale pensa alle coccole con le persone che ami o con il tuo animaletto se ne hai uno l'autunno è una stagione meravigliosa l'autunno è una stagione e noi ci vediamo come al solito se ti va nel prossimo video bacini futosi con il buonanotte